Oggi parliamo di espressioni idiomatiche legate al verbo essere, cosa vuol dire espressioni idiomatiche. Sono espressioni fisse che riguardano ancora il verbo essere, prometto che questa è l'ultima lezione sull'erbo essere e poi passiamo finalmente a parlare del primo step che vi avevo promesso nella spiegazione, all'introduzione a questo corso d'inglese. Perché parliamo di idioms of to be? Perché ci sono delle espressioni che io non posso copiare dall'italiano ma devo imparare a capire come tradurla in inglese nel modo corretto. Nello specifico oggi vediamo una serie di espressioni che in italiano sono comunicate utilizzando il verbo avere. Avere caldo, avere freddo, avere fame, avere sete, avere ragione o torto, avere paura, avere fretta, avere interesse per qualcosa e poi essere in ritardo, essere in anticipo che in un certo senso si comportano come in italiano ma la traduzione spesso inganna gli italiani soprattutto all'inizio del loro percorso di studio. Allora oggi le vediamo insieme non solo appunto perché sono poi diverse dall'italiano ma anche perché sono di uso assolutamente comune quindi è importantissimo nel nostro percorso di emancipazione linguistica sapere come si traducono appunto. Allora vediamo, partiamo da caldo e freddo, caldo si dice hot e mentre in italiano appunto dico io ho caldo in inglese dovrò dire I'm hot. Quindi se voglio chiedere a qualcuno hai caldo non lo farò utilizzando il verbo avere ma lo farò utilizzando il verbo essere. Se vi ricordate come vi ho spiegato le domande in inglese si fanno facendo un'inversione quindi se voglio chiedere a qualcuno hai caldo chiederò are you hot? Are you hot? Are you hot? No, I'm ok. Oppure yes I am. Stessa cosa per freddo che si dice cold. Questo può trarre un po' di inganno perché cold assomiglia un pochino a caldo in un certo senso ci sono molte lettere in comune ma appunto vuol dire la cosa opposta. Allora cold se io voglio dire fa freddo anche qua in italiano per esempio si usa il verbo fare se è riferito al tempo atmosferico. In inglese invece si usa sempre to be it is cold. Chiaramente l'espressione fa freddo è un'espressione impersonale non c'è un soggetto vero e proprio. Mentre in inglese laddove il soggetto invece abbiamo visto è obbligatorio vado a metterci it che come vi avevo spiegato serve per cose animali ma anche per le forme impersonali. Quindi it is cold. Fa freddo. Se vado a trasformare in una domanda faccio l'inversione e dico is it cold? Is it cold? No it isn't. Oppure yes it is. Fame e sete. Obbligatorio per chi viaggia sapere come tradurre queste espressioni. Allora avere fame si dice to be hungry. H-U-G-R-Y. Hungry. Quindi se io voglio dire noi abbiamo fame lo dovrò fare utilizzando il verbo essere. E quindi we are hungry. Abbiamo fame. We are hungry. Sete. Voi avete sete per esempio. se io voglio chiedere ai miei ospiti avete sete. L'aggettivo è thirsty. Thirsty. E chiederò are you thirsty? Are you thirsty? Benissimo. Poi altra coppia di opposte avere ragione avere è torto. Avere ragione si dice to be mi raccomando sempre to be quindi non avere ma to be to be right. Quindi se vuole dire secondo me lui ha ragione dirò in my opinion secondo me in my opinion he, lui, is, non avere ma essere, he is right. Ok? He is right. Il contrario avere torto si dice sempre con to be to be wrong. Ok? To be wrong. Quindi se io voglio chiedere a qualcuno mi sbaglio, ho torto, voglio fare una domanda in prima persona singolare e dico am I wrong? Am I wrong? Benissimo. Oppure se voglio dire loro hanno torto, loro si sbagliano dico they are wrong. Ok? Passiamo alla paura. Avere paura si dice to be afraid of something. to be afraid. Si può anche dire to be scared. E la preposizione che ci fa dietro è off. To be afraid. Oppure to be scared of something. Quindi se io voglio dire che ho paura dei ragni un classico dico I am. In italiano io ho ma in inglese I am. È per questo che facciamo questo esercizio oggi. I am afraid of spiders. I am afraid of spiders. Passiamo alla fretta. Anche qua in italiano dico ho fretta. Avere fretta. Ho fretta. Ma in inglese è to be. E la fretta si dice con in a hurry. Questa è un'espressione un pochino particolare. Sono tre parole. To be in a hurry. Quindi se io voglio dire il mio capo è di fretta. dico my boss. A fretta is. Uso per essere in inglese. In a hurry. My boss is in a hurry. Ok. Ho interesse per qualcosa. Sono interessato a qualcosa. Mi interessa qualcosa. In inglese si dice to be interested. Interested. To be interested. La preposizione che gli va dietro è in. Ve lo dico perché sono binomi che non posso disgiungere. Interested ma sempre seguito dalla preposizione in. Per esempio ci interessa lo sport. Siamo interessati allo sport. Abbiamo interesse per lo sport. Chi. Noi. Quindi we. Verbo essere. Are. Interested. In sport. We are interested in sport. Ok. Quindi tutte queste espressioni che in italiano, come vi ripeto, sono utilizzate con il verbo avere, sono rette dal verbo avere, in inglese le devo tradurre con il verbo essere. non c'è una vera e propria spiegazione. Semplicemente che la lingua inglese le esprime in questo modo. Possiamo dire che culturalmente l'inglese è una lingua un pochino più dritta della nostra e che l'inglese difficilmente dirà avere o se non è qualcosa che posso mostrare. Quindi queste fanno parte del mio stato di essere, non di quello che ho in tasca, in un certo senso. Caldo, freddo, fame, eccetera. Vediamo anche le ultime due che, come vi dicevo, in un certo senso si discostano perché anche in italiano vengono utilizzate con il verbo essere. Vediamo come si dice. Essere in ritardo. Se dice to be late, non to be in late, come tanti dei miei studenti all'inizio erroneamente dicono. Quindi, per esempio, se voglio chiedere a qualcuno perché sei in ritardo, dico Why are you late? Quindi mi raccomando, non in late, ma semplicemente late. E l'opposto, in anticipo, è early, early. In anticipo, posso dire che la professoressa, la maestra, l'insegnante è sempre in anticipo, dico The teacher is sempre, always, early. The teacher is always early, ok? Bene. Sufficiente per oggi la lezione numero 7, Igems of to be. Quindi, trovate tutti questi elementi che vi ho spiegato nella tabella riassuntiva 1.9 che appunto si chiama Usi idiomatici di to be. Oltre a questi, trovate anche la scheda relativa a come descrivere il tempo che fa, che è un altro utilizzo, se vogliamo, particolare del verbo essere. Questa è l'ultima lezione sul verbo essere. Dalla prossima lezione, quindi dalla lezione numero 8, cominciamo a parlare del primo step che vi avevo promesso all'inizio di questo corso. Abbiamo dovuto aspettare 8 lezioni, semplicemente perché il primo step si basa completamente sul verbo essere che abbiamo già visto. E quindi sarà facilissima. Continuate a fare gli esercizi, continuate a memorizzare, continuate ad essere curiosi su come tradurre in inglese e a farvi delle domande. perché la comunicazione significa avere qualcosa da dire e se non avete niente da dire, sarà difficile fare comunicazione in inglese. Ok, bye bye from Alex. I'll see you soon for lesson number 8. Ciao!